qualsiasi picchia può perdere anche con le squadre piccole hai fatto bene a ricordarla Siviglia che ha perso 2-1 a Granada Granada che era ultimo in classifica e con questa vittoria è diventato penultimo perché l'ultimo è lo Sasuna e l'atletico che non ha vinto al Calderon contro l'Espagnol ha fatto 0-0 e se andiamo a vedere a parte che sarà una giornata incredibile piena di pareggi le vittorie sono state veramente poche perché ha vinto solamente l'Atletic Bilbao 3-1 a casa con Leia Bar e ha vinto il Deportivo 5-1 a casa con la Real Sociedad e poi il Sporting 3-1 sullo Sasuna e appunto il Granada adesso sono stati tutti pari però diciamo che quelle lì davanti si sono abbastanza fermate quindi il pareggio tra Barca e Madrid la sconfitta del Siviglia e il pareggio dell'Atletico Madrid praticamente lascia più o meno tutto invariato il Siviglia è sotto di un punto al Barca con 27 a 28 appunto c'è il Barcellona e a 25 c'è l'Atletico Madrid e il Granada Madrid a 34 allora come dicevi tu la Liga è talmente aperta che poi penso che l'unica rivale per il Granada Madrid sia ancora il Barcellona sì 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 il Siviglia non è nell'Atletico penso che il Siviglia possa arrivare fino in fondo nella corsa del titolo e neanche l'Atletico Madrid esatto da inizio stiamo dicendo esatto poi alla fine si stanno si stanno sciogliendo sciogliendo queste squadre il Barça da Fio Torci e Real Madrid e poi molto dipenderà sia da Barça ma anche da Real Madrid abbiamo detto sì anche perché stiamo vedendo che Zidane è molto fortunato e quindi poi la Liga al Madrid manca da ben 4 anni e quindi però c'è da dire anche che poi adesso deve fare la il modale per il club esatto dobbiamo aspettare ci sono diverse sfide anche in Coppa del Rey ci sono le sfide di Champions League a febbraio marzo insomma potrebbe perdere dei punti per strada come è successo a un certo punto sarà un po' acceppata questa macchina ti ricordi quei pareggi di fila con la Spalmas le Bar Villareal una pareggiata le tre consecutive esattamente e poi non ci dimentichiamo anche di un'altra cosa caro Stefano perché il Madrid ancora non è qualificato come primo per la Champions e questo bisognerà capire però bisogna vedere se è meglio arrivare i primi o i secondi però comunque per l'onore è meglio sempre al primo posto aspetteremo aspetteremo di capirlo di capirlo di capirlo successivamente comunque per riaprirsi la Liga il Ramite deve inciampare contro qualcuna quello è sicuro quello è fuori ombra però è un risultato clamoroso ripeto noi staremo staremo lì ad aspettare comunque può starci perché Maxi l'altra volta non dimentichiamolo contro Sporting Guion ha vinto soffrendo se non sbagliava il rigore forse Guion prendeva pure Sporting e prendeva pure un punto infatti per questo io ti dico caro Stefano che mi sembra che tutto giri a favore loro questo gol all'ultimo di Sergio Ramos il rigore sbagliato al settantottesimo che non è sbagliato perché Navas fa una grande parata perché la tira alta il giocatore dello Sporting Guion però la ruota gira la ruota gira noi aspettiamo esattamente bravo Stefano e noi aspettiamo che la ruota giri e che possa appunto dare 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 al Barca quello che fino adesso insomma le è un po' le è un po' mancato allora ci andiamo ci andiamo nella seconda pausa di questa trasmissione e rientriamo un po' con il contorno del classico perché polemiche ce ne sono state sono state anche in Italia alcune polemiche e poi insomma quello che sta succedendo invece che è scoppiato il caso dei giudizi delle armatite che non hanno mai pagato le tasse e questo credo che i nostri ascoltatori ne dovrebbero essere informati e noi appuntualmente glielo diremo andiamo nella pausa grazie a tutti 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 Visca il conoscimento e l'alegria del gioco, adornata con un toc di fantasia. Futbol en color, bucada da gourmet, punta da ganchetta, canella fina. La stella parà in volcabla, baixa in volcidla, dorme amb l'esquerra, di travessa al migcam amb l'asferica, canciata alla botta. Se'n va dal volan, entra in l'area gran, li fanno la pilota. Eccoci che siamo tornati qui su Radio Barza Italia. Io vi ricordo che è l'unica trasmissione che parla del Football Club Barcelona in lingua italiana e prodotta dalla Pegna Blaugrana di Roma, che è il fan club ufficiale per il centro-sud Italia. Allora diamo i contatti, li diamo durante la trasmissione Stefano, perché ci potete seguire su chiocciola Blaugrana Roma o Radio Barca Ita, sempre chiocciola per quanto riguarda Twitter, sulle pagine Facebook di Radio Barza Italia o sulla pagina Facebook della Pegna Blaugrana Roma oppure su passionedelcalcio.it, che è il sito internet, dove trovate anche informazioni su Radio Barza Italia. E poi, ovviamente, io vi ricordo che il movimento dei fan club ufficiali del Football Club Barcelona in Italia esiste, lo trovate nella città di Genova, nella città di Torino, nella città di Bergamo, nella Lombardia, provincia di Varese, e poi, ovviamente, per la Svizzera di lingua italiana, accanto a Ticino, anche appunto nel Ticino, oltre che appunto a Roma, nel centro-sud Italia. Allora, caro Stefano, torniamo ai nostri argomenti sul Barza. Insomma, c'è stata proprio ieri, e io parto da ieri, dall'intervista di Xavier Mascherano, che, come riportato da Sport, dal quotidiano, dal diario Sport, diciamo che lui si arrabbia delle critiche, Sport titola della caverna, cioè della famosa caverna mediatica madridista, perché sabato ci sono state un po' di telecronache di parte, e anche in Italia, purtroppo, io me l'avete raccontato voi, l'ho seguito poi su, l'ho riletto, l'ho riascoltato, poi tornando in Italia, da Barcellona, e non è stato solo Fox Sport Italia, e quindi non solamente, diciamo, le urla di Fabio Capello al gol di Ramos, la contentezza... All'errore di Neymar. All'errore di Neymar, perché il Mascherano si arrabbia. La domanda di una giornalista di Adres Media, che è una televisione che ha i diritti Champions, che appunto ha i diritti Champions, perché dice che la domanda di ieri sera è stata sei un giocatore che commette molti rigori, e questa televisione nel post partita in Spagna ha fatto vedere più volte il rigore, il presunto rigore su Vasquez da parte di Mascherano. Cosa analogia che abbiamo ritrovato in Italia, perché nel parterre dello studio di Fox Sport Italia si è parlato molto di questo rigore presunto, che poi non c'era, di Mascherano su Lucas Vasquez, e non quello, il fallo di mano di Carvacal, sul cross di Jordi Alba, sempre nel primo tempo. In questo caso parliamo della TV spagnola, in questo caso parliamo invece di Fox Sport Italia, che guarda caso in studio a commentare questa cosa, un ex giocatore del Real Madrid, cioè Ivan Elguera. Ha militato tanti anni nel Real Madrid. Ha militato in altri anni, e il conduttore invece è stato Alvaro Forricchetti, invece è stato periodista, giornalista spagnolo, che conduce la trasmissione di Fox Sport Italia, che era corrispondente al Real Madrid, per Deporte 4, che è della proprietà di Mediaset e Spagna. Quindi insomma, la cosa strana è che non siamo esplosi solo noi, solo noi italiani del Barça, ma sono esplosi anche i giocatori, in particolare Xavier Mascherano, che ieri ha ribattuto a questa domanda, a queste critiche, dicendo che non è assolutamente vero e che la devono piantare di inventarsi le cose, questo dice Mascherano. La cosa incredibile è che purtroppo viviamo in Italia, caro Stefano, una situazione in cui viene favorito nettamente nelle parole, nei racconti, il Real Madrid. Questa è una cosa veramente strana, insomma, è partita, chi vuole lo può fare su change.org, può andare a firmare una petizione contro, diciamo contro, nel cercare di riportare l'imparzialità nei commenti delle partite di Liga Spagnola trasmesse da Fox Sport, quindi la trovate nella change, www.change.org, commenti e telecronache appunto troppo faziosi a favore del Real Madrid. la cosa strana, caro Stefano, è anche un'altra, è che se si va sulla pagina sulla pagina Facebook o sulla pagina Twitter di Fox Sport Italia, si trova nella copertina Sergio Ramos che esulta al gol del pareggio al Classico e questa è veramente un'altra cosa. Non è che si sforzano a cercare di far vedere di essere imparziali? No, 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 e questa è veramente una bruttissima cosa e non sappiamo qual è il motivo, non riusciamo a capire perché, chiediamo solamente che venga riportata la imparzialità, anche perché, insomma, Fox Sport Italia trasmette anche altri campionati come quella Bundesliga e anche altri sport, immagino il Super Bowl, il campionato dell'NFL, eccetera, e Fox Sport Italia ha una grande professionalità nel trasmettere e nell'essere imparziale quando tratta questi argomenti e non capiamo perché non è imparziale per quanto riguarda la Liga. Per me non dovrebbero proprio metterlo, però inserirlo in queste partite per Fabio Capello nel commento tecnico perché poi, ovvio, lui è dichiaratamente, si è dichiarato proprio tifoso della Madrid. L'hai ricordato tu in un'intervista al Corriere dello Sport? Sì, sì, io non tifo adesso né per Milano, né per la Roma, né per la Juventus, ma tifo per il Real Madrid e poi è un amico personale del Presidente Florentino Perez. Comunque, io vi ricordo, insomma, chi vuole può trovare su change.org questa petizione, commenti e teleconiche faziosi a favore del Real Madrid, sosteniamo l'imparzialità dei commenti nelle partite di Liga spagnole trasmesse da Fox Sport Italia. Allora Stefano, invece... Un scandalo, eh? No, veramente un scandalo, io lo so che tu vorresti... No, dico, passiamo da uno scandalo all'altro. Ah, bravissimo, bravissimo. Quello l'avevamo accennato prima. Allora, ecco, bravo, bravo. Passiamo giustamente da uno scandalo all'altro. Allora, io ero a Barcellona venerdì, sono partito giovedì 1 e sono rimasto fino alla mattina di lunedì 5 e scoppiata questa bomba in Spagna e l'ha fatta scoppiare un giornale di un certo livello. Il mondo, il mondo, lo trovate su internetalmundo.es e l'indirizzo. Il mondo è paragonabile alla stampa di Torino o addirittura, se si vuole andare in un confronto, al Corriere della Sera proprio perché magari se il paese è più riconoscibile alla Repubblica, il mondo lo possiamo definire un po' più il Corriere della Sera. Io lo definirei un po' più come la stampa, però insomma, è anche abbordabile questo. È un giornale di centrodestra, quindi non possiamo dire che è un giornale che, diciamo, critica l'operato del governo attualmente della Spagna e esce fuori con questa notizia. La notizia è che Cristiano Ronaldo ha evaso il fisco per 150 milioni di euro. Questa notizia era stata già riportata il giorno prima, giovedì primo, da De Spiegel, un noto e importante giornale tedesco. La cosa strana che dovete sapere è che la notte tra venerdì e sabato la sera il giudice di Madrid che nella sua giurisdizione si doveva e si dovrebbe indagare su questa storia ha chiamato il direttore del mondo diciamo facendoli delle pressioni per evitare la prima pagina del giorno dopo. Questa ovviamente non ce lo inventiamo noi è stato scritto dal fondo del direttore del mondo del mondo Grazie.